5, 4, 3, 2, 1, vai, 100, mantieni destra, in sinistra 4 meno, per destra 4, 2 tempi, e il cartello sinistra 2 più, per destra 4 lunga lunga, per destra 4 meno, in destra 4 meno, e al palo sinistra 3 chiude, in destra 3 chiude lunga, in accenno sinistro, in sinistra 3, in destra 3 meno, in sinistra veloce, per sinistra 4 meno meno, per destra 4 non tagliare, per subito sinistra 2 più, per destra 3 più, sinistra 3 meno, per destra 4 meno, occhio addosso, per destra 4 meno, occhio addosso, da sinistra 3 scivola, per destra 4, in sinistra 2 lunga, per sinistra 5 vai, per accenno destro, in accenno sinistro, e destra 3 lunga, gira, destra 3 lunga, gira, vai 100, vai, vai 100, stacca sinistra 3 meno, non tagliare, per destra 3 meno, e alla cabina sinistra 3 meno, sporco, al ponte sinistra 3 meno, vai, vai 120, in destra 5, per sinistra 4, e accenno destro 2 tempi, in destra 4, vai, non so, in destra 4 due tempi, e alla pianta destra 3, cambio strada, vai, 100, in destra veloce, e al cartello ritarda, destra 2 lunga, vai, per sinistra 3, in sinistra 4, al rail, destra 2 due tempi, allo specchio, destra 2 giude, per destra 3 vai, in sinistra 3, vai, 100, al rail, destra 4 più più, destra 4 più, per cartello destra 4 lunga, per destra 4 vai, in sinistra 4 due tempi, allo specchio, destra 4, per attenzione, dosso, tieni, destra, in sinistra 3 lunga, per destra veloce, nel dosso, tieni, in centro, per accenno destro, vai 30, accenno sinistro, in destra 4, e ad incrocio sinistra 4, via al ponte, attenzione, sinistra 3 butta, sinistra 3 butta, vai, vai, sinistra 3 meno sale, bravo, vai, destra 4, 8, via al rail, di sinistra 3 forno, vai 30, e destra 1, destra 1, vai 100, al pallo destra 2, non tagliare, per destra 3 non tagliare, per destra 4, in sinistra 4, e stacca a destra 2, chiude, chiude, in sinistra 2 più più occhio, e accenno destro, e subito al dosso sinistra 1 sale, sinistra 4 meno, e alla pianta destra 3, sale 30, al pallo sinistra veloce, in destra veloce, in accenno sinistro, in accenno destro, accenno destro, e alla pianta destra 3 meno, destra 3 meno, vai, 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 allo stop a teni sinistra, attenzione, sinistra 3, e al muro destra 3, per sinistra 4 lunga, lunga attenzione, ecco l'olio, vai, per 30, sinistra 5, e al rosso destra veloce, al rail, stacca sinistra 3 cieca, in destra 2 giude, vai, sinistra 4, in destra 4 sconnessa, stai giù il po', per sinistra 4, in accenno sinistro, in accenno sinistro veloce, in che quanta, destra 4 meno, in rosso 8, destra 2, sinistra 2 meno 8, scivola, sinistra 2 meno 8, scivola, sinistra 4 sconnessa, e al muro destra 2, stacchissimo, in sinistra 4 lunga, sinistra 4 lunga, e al palo destra 3 giude, sporco, destra 3 sporco, vai, e all'interno destra 4 vai, sinistra veloce, in sinistra 3 più, in destra 4, per sinistra 4 o meno, vai, vai Daniele, vai, 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 7.01, 7.01, sei un missile, sei un missile, non ci stanno santi, basta, basta, siamo campioni, ci stanno santi, basta. Eh, quando? 7.01, andiamo là, vabbè, vabbè, ragazzi, oddio, papà, vai, vai, bravi, vai, andiamo da qua, grazie,